Sì, 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 e qui c'è po' la roba, devi tagliare gli assi, così sai, lì è che c'è il braccio, 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 c'è il braccio. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. No, you do insert, you do insert. Perfetto. Perfetto. Sì. Sì. No, you do insert on his hands. No, you do insert. Sì. 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 No, no, no. Fantastico. Am I a scopper now? No, you're an official scopper. glielo fanno passare da sotto la camicia ciao america ciao america